ciao siamo lì e tizzer e oggi vi faremo vedere come non dovete utilizzare la vostra mascherina il capitano lo sai per un gol io darei la vita la mia vita ciao comunque vediamo stasera alle 10 non ho capito alle 10 stasera ora ho capito scusi mi dice che ora è per favore? sì le 5 e mezza grazie prego ma quante volte te la devo dire allora sei proprio sceme la mascherina così non ha senso non ti protegge un caffè per favore subito a lei? no monouso ecco qua la palettina per favore grazie 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 a tutti.